L'Eneide inizia sulle macerie di Troia. Sofge moltissimo Enea, ma alla paura risponde sempre con l'audacia. Soprattutto, anche quando in ginocchio, Enea pensa. E quando si innamora di Midone, non cede al ricatto di un amore che oggi definiremmo tossico, sebbene sia stato poi romanzato in secoli di letteratura. Quando sbarca nel Lazio, una terra che vorrebbe chiamare casa, si trova davanti un manipolo di selvaggi, gli italici, che per inciso siamo noi. La battaglia che condurrà è soprattutto di tipo culturale. Non ha nessuna dote magica Enea, niente che ci esima da dover riconoscere che, se può lui, allora possiamo e dobbiamo anche noi. Solo una cosa significa essere Enea. Di fronte alla distruzione, rispondere sempre, ricostruzione. Questa è la sua lezione. Grazie.